Parole note per il futuro, un connubio bellissimo il vostro con il Festival Francescano. Quali testi sono stati scelti per questo spettacolo? Abbiamo scelto prima di tutto un percorso di vita e motivazionale, fatto anche di alcuni personaggi religiosi. Poi, ovviamente, seguiamo il nostro percorso normale e quindi abbiamo anche dei testi d'amore, quindi un breve percorso su una storia d'amore, dall'incontro, la passione, anche la fine di un amore. E poi l'ultima parte dello spettacolo, che è proprio incentrato su Parole per il futuro, è il rapporto tra i genitori e i figli, quindi il nostro futuro veramente, insomma. e lì abbiamo diversi testi, anche uno di Papa Francesco, che cerca di darci una definizione di figlio, secondo lui, e poi la figura della madre prima, un testo di un ricordo della propria madre di Caterina Turroni, e poi un testo sulla consapevolezza di diventare madre, e poi infine la figura del padre, quindi il rapporto del figlio con il padre, che lo esaminiamo attraverso due testi molto commoventi, che però paradossalmente sono stati scritti da due comici. Il primo è il ricordo del proprio padre di Gabriele Corsi, che è un membro del Triomedusa, e infine la lettera di un padre alla figlia, una lettera bellissima che questo padre scrive alla sua figlia, scritta da Riccardo Rossi, autore teatrale e comico. Senti, so che sei diventato papà da pochi mesi, qual è il tuo rapporto con la paternità? Allora, molti mi chiedono, allora com'è la tua vita, è cambiata? Che si dice sempre, no, che ti cambia la vita. Io rispondo sempre che la mia vita è migliorata, perché oltre, è vero, è impegnativa, ma è quell'impegno bellissimo che ti fa godere ogni secondo, no? Poi, quando nasce il mio è una bambina, mi ho sempre voluto una bambina e non un maschio, non so perché, mi sono sempre immaginato che avrei avuto una bambina e ho avuto una bambina, e quindi il mio cuore è esploso praticamente in mille pezzi a quando l'ho vista la prima volta, e continuo a esplodere ogni cambiamento che fa ogni giorno, che è impressionante, è un'evoluzione talmente veloce che rimani sempre bocca aperta sulle cose che fa. Quindi è così banalmente meraviglioso. Spendiamo invece due parole sulla scelta musicale per lo spettacolo. Allora, per quanto riguarda la musica, la poesia, la lettura, è sempre accompagnata da musica elettronica. Per l'elettronica non intendiamo la musica della discoteca, ovviamente, ma ha ambiente fatta con strumenti elettronici. Molte musiche sono state composte da me, insieme a Marco Zangirolami, che è un grande musicista italiano, proprio in studio, per i dischi di parole note. Altri sono anche musiche di grandi musicisti, come Moby, o comunque importanti autori nel panorama elettronico, come magari non vi dice niente, ma Alvanoto, che suggerisco perché veramente fa delle musiche bellissime anche di ambiente, con dell'elettronica, che si chiamano glitch di musica, che sono bellissimi. E poi ovviamente lo spettacolo è condito anche da spezzoni di musiche, quindi abbiamo scelto delle canzoni per ogni momento, quindi sentiremo Tomo Dell, per quanto riguarda l'amore, con una cover dei Beatles di Real Love, oppure L.A. Reinhardt, per quanto riguarda sempre l'amore, con una cover di Can't Help Falling In Love. E poi, per finire, noi chiediamo sempre con un messaggio importante di David Bowie, che è Absolute Beginners. Noi chiediamo sempre con quella lì, che ci dà la carica, ci aiuta a salutare tutto dopo la serata. Grazie. Grazie a te.